Io non sono leghista a favore di Rondolino, però mi viene da dire che qualche volta l'atteggiamento dei leghisti ha un filo di buonsenso, perché davvero in un momento di crisi, ma di tutta l'Europa, dell'Italia in particolare, bussatevi verrà aperto, dice il Vangelo, benissimo, però questi non stanno più bussando, questi sfondano e noi non abbiamo le strutture né le risorse economiche per poterli accogliere tutti, quindi vuol dire che questi flussi migratori che si ripetono dall'origine del mondo sempre, adesso si ripete, ma è un flusso migratorio davvero di proporzioni enormi, non va bene, bisogna trovare una soluzione e la soluzione non è venite qua dove già noi stiamo male, dove già ci sono famiglie che dormono in macchina perché hanno perso la casa, la soluzione è mettiamo insieme delle risorse onestamente, andiamo a casa loro e mettiamo in grado queste persone di lavorare, di sfruttare il loro terreno, di sfruttare le loro capacità, la loro cultura, perché gente molto spesso sono laureati.